Occhio giornali di lunedì 19 aprile 2021, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori, buon inizio settimana, siamo insieme anche oggi, sono le 7 del mattino e siamo qui per sfogliare i giornali del lunedì, giornali che come sempre lunedì danno molto spazio allo sport, anche se come vedremo insomma per i pesaresi, i fanesi non è andato benissimo con le squadre di riferimento, le squadre più importanti, le prime squadre come si dice, ma andiamo con ordine, vediamo il santo di oggi, poi il tempo, oggi è Sant'Emma di Sassonia, il sole è sorto alle 6.20, tramonterà alle 8 di stasera, vediamo adesso invece le previsioni con trebimeteo.com Aprite le finestre primavera, c'era una famosa canzone ma non possiamo ancora cantarla perché la primavera, secondo i meteorologi appunto di trebimeteo.com, è ancora lontana, avremo tempo instabile fresco anche nei prossimi giorni, questa è la situazione nelle Marche per la giornata di oggi, vedete al mattino ancora pioggia sulla provincia pesarese, parte di quella anconetana, il pomeriggio migliora, anche se ci saranno ancora residui piovaschi nel Macerettese e nel Piceno, invece schiarite durante la sera. Vediamo martedì 20, domani martedì 20 di aprile, la mattinata si apre con sole alternato a nuvole, ma il pomeriggio segna invece il cambio di passo con la pioggia che interesserà la collina e l'entroterra, migliora dunque la sera. E adesso i giornali, vaccini sistema in tilt, questo è il titolo del Carlino di Pesero, che cosa è successo? È successo che l'hub del più importante, quello di Pesero, all'ex Aristo, dentro all'Iper Conad, il sistema del computer è andato in tilt, sulla piattaforma praticamente non risultavano buchi, è come se tutte le ore, tutti i minuti fossero comunque occupati da persone, in realtà poi se uno andava lì non c'era nessuno. Quindi un sistema che non ha in qualche modo funzionato nella giornata di ieri e quindi sul computer tanta gente, ma di fatto non c'era nessuno. Sanitari costretti dunque a convocare al volo i prenotati per i giorni successivi e come vedremo, insomma, come racconta il Carlino, qualcuno si è precipitato di corsa ancora con la pasta asciutta in bocca mentre stava mangiando ed è andato a farsi vaccinare. Mentre dicevamo dello sport, si salvi chi può, questa è la fotorotizia, vedete, basket, calcio, domenica senza gioie per WL, Vis e Alma, la squadra di Repesia non c'è più, fa festa a Trieste e per fortuna Cantù perde a fil di sirena. Pare invece beffa per i biancorossi di Donato, il Fano invece fa 0-0 con il Matelica, play-out dunque quasi certi. Andiamo sulla pagina invece del Corriere Adriatico, anche qui lo sport come fotonotizia del lunedì, basket a Trieste finita a 101 a 88, la WL scivola un'altra volta e chi balla invece per le microzone rosse, questo è il titolo che riguarda l'apertura di oggi, oggi è una giornata importante qui per le Marche, perché? Perché si decide con il Governatore e la Giunta, insomma, chi dovrà passare in zona rossa, quindi da arancione, comuni che diventeranno microzone rosse. Da Pesaro a Folignano, oggi, sabato in Regione per eventuali restrizioni da adottare in vista delle riaperture, risto pochi vaccinati in agenda, arrivano i riservisti, l'appello dei volontari, anche noi in lista per le dosi. Mentre sui vaccini, prenotazioni, i 30 minuti di buio digitale sul sistema, 30 minuti di buio sulla piattaforma di Poste.it, quella attraverso la quale si prenotano i vaccini, generano confusione nella distribuzione della macchina operativa, con disguidi soprattutto nel Pesarese. È il bilancio, scrive Andrea Taffi, il bilancio di una domenica caotica dovuta al sovraccarico della piattaforma nazionale che ora copre diverse regioni. Poi la cronaca, sempre in richiamo sulla prima del Corriere, abbandona l'amico andato in overdose all'ospedale, poi fugge, è successo a Pesaro, mentre Marche Multiservizi annuncia il porta a porta è troppo costoso, dunque valuta di abbandonarlo, di lasciarlo. E a Fano invece il sindaco si è arrabbiato tantissimo per qualche scellerato che con la bomboletta spray ha cominciato a imbrattare la pista ciclabile. Il sindaco annuncia tolleranza zero. È sempre da Fano sul Corriere, le attività ce la faranno, l'assessore Lucarelli dice che con più spazi all'aperto le attività riusciranno a uscire dal pantano, sollecita le richieste, quindi se qualcuno dei commercianti ha bisogno di spazi all'aperto può fare richiesta al Comune, favorito il raddoppio del suolo pubblico occupato e dunque in qualche modo il Comune cercherà di andare incontro il più possibile ai commercianti fanesi. Intanto andiamo a vedere un attimo qual è la situazione con le curve che sono in calo, però c'è sempre il rischio di microzone rosse nei comuni più caldi. Tra l'altro ieri la provincia di Pesaro Urbino è quella che ha fatto la performance peggiore con 113 nuovi casi, mentre la provincia di Ancona ne ha avuti 53, 42 quelli di Macerata e 31 il Piceno, mentre il Fermano soltanto 23. Quindi da qualche giorno Pesaro Urbino sta evidenziando una situazione un po' particolare, un po' delicate e come leggeremo certamente conta molto anche la vicinanza con la Romagna e quindi il discorso di osmosi tra il passaggio dei residenti, delle marche in Romagna e viceversa. Insomma andiamo a vedere l'incidenza settimanale dei casi, qui siamo a buon punto perché le marche sono a 133,4 ogni 100 mila abitanti, mentre sapete che la soglia fissata dal governo è 2,50, quindi 130-2,50 ci tiene abbondantemente alla larga dalla zona arancione. Noi lo siamo questa settimana, zona arancione, ma lo siamo per decreto, lo ricordiamo, ma dalla prossima ancora quando si potrà tornare ad essere gialli probabilmente il giallo sarà assicurato per tutta la regione. Poi c'è anche l'indice RT, l'indice di contagio, l'indice di contagio nelle marche è sotto l'1, quindi non ci sono problemi e da questo bisogna aggiungere anche il netto calo dei ricoveri per Covid che come scrive Lorenzo Sconocchini questa mattina sul Corriere Adriatico, elencando tutti i numeri nei vari reparti intensivi e quant'altro, insomma indica che anche sotto questo aspetto le marche sono al riparo e quindi in zona gialla tranquillamente. Tra l'altro leggevo la terapia intensiva, siamo scesi da 101, oggi ce ne sono 96 di persone ricoverate in terapia intensiva. Ora, questa mattina le cinque aree vaste dell'Asur della regione Marche avranno un incontro oggi con la regione e con i sindaci interessati, perché già la regione sa già quali sono le località che andranno in zona rossa, quindi verranno convocati oggi, c'è questo incontro e allora ai sindaci verrà spiegato cosa si può fare e cosa non si può fare. Allora, quali sono questi comuni che rischiano di diventare zona rossa? Intanto abbiamo al momento Pesero, Vallefoglia e Gradara, sono quelli in cui c'è stato più movimento sotto le feste di Pasqua e quindi sotto le feste di Pasqua gente che è andata a prendere un po' di sole passeggiando sicuramente in Romagna e viceversa e quindi tutto questo ha fatto sì che i contagi aumentassero. Il Corriere questa mattina, sulla pagina 3, si occupa proprio di questo e lo fa facendo un punto su tutta la regione. Da Pesero a Colli fino a Folignano ballano una decina di comuni, 30 minuti di buio invece nel sistema dei vaccini, questo riguarda invece il sistema, come abbiamo visto, che è andato in tilt. Alle 12 la videoconferenza con i dati aggiornati e dunque a mezzogiorno, sarà un mezzogiorno di fuoco per questi comuni perché arriverà appunto la sentenza con i provvedimenti. Salta Martini però dice e tiene una porta aperta, tutte le misure eventualmente che andremo a prendere verso quei comuni che diventeranno rossi potranno essere adottate previa proposta degli organismi tecnici del Servizio Salute e quindi ha spiegato che poi basterà un giorno senza contagi nel proprio comune per uscire dalla zona grigia. Ma vediamo quali potrebbero essere appunto queste microzone rosse. Nel Pesarese erano coinvolte Pesero, Vallefoglia e Gradara, che sono le aree per osmosi più vicine alla Romagna. Nell'Anconetano si parlava fino a venerdì di Polverigi, poi la discesa verticale del comune di Villa Nappi ha portato in pole position Cerreto Desi, che è un altro comune che probabilmente andrà in zona rossa. Poi nel Maceratese sono tre invece i comuni il cui rallentamento è meno lento degli altri, ovvero Macerata, poi Treia e Tolentino. Nell'Ascolano invece i comuni attenzionati erano Monte Prandone, Folignano e Colli del Tronto, ma tutti e tre i sindaci hanno garantito che i contagi nella settimana appena terminata sono stati in calo. Quindi siccome Saltamartia ha detto basta un giorno, allora bisognerà attendere i dati in mattinata verso le 9, 9 e mezzo, poi a mezzogiorno verranno convocati quelli che rischiano in qualche modo le microzone rosse. Anche il resto del Carlino ovviamente parla di questa situazione. Noi abbiamo preso e selezionato questa mattina la pagina di Macerata, Macerata, Treia e Morrovalle, sotto la lente della regione, osservato speciale anche Monte San Giusto. La zona rossa però in questo caso, lo ripetiamo, sarebbe un po' meno vincolante, perché pur rimanendo il divieto di spostarsi, se non per motivi essenziali di salute, lavoro e altre necessità, permetterebbe ai negozi per esempio di rimanere aperti, ma i clienti potranno spostarsi per gli acquisti da soli, mentre per bar e ristoranti continuerebbe il servizio d'asporto, senza la possibilità di servizio a tavoli, ma questo vale per tutta la regione, essendo arancioni. Per quanto riguarda invece le scuole, anche se si è in zona rossa, le scuole possono rimanere aperte fino alla terza media, mentre alle superiori, in zona rossa, nei comuni dove ci sarà la zona rossa, si potrà andare nelle superiori al 50% in presenza. Quindi una classe sì, una classe no. Detto questo, andiamo a vedere la pagina 3 del resto del Carlino per il titolo che riguarda questo sistema in tilt con i vaccini che sono stati destinati a pochi, perché la gente è stata tirata dentro al volo, qualcuno ha iniziato a prendere il telefono, a chiamare, visto che per il sistema era tutto pieno, ma in realtà era tutto vuoto, e quindi qualcuno ha mollato lì il pranzo e, come racconta Roberto Damiani, si è precipitato all'ex Risto a Pesaro per fare questo vaccino. E lui, per esempio, questa persona che è stata intervistata, questo pensionato di 70 anni, dice, mi hanno chiamato al telefono a mezzogiorno e mezzo, stavo mangiando, mi hanno chiesto se volevo vaccinarmi con Pfizer, l'altra volta quando dovevo vaccinarmi c'era solo AstraZeneca, io non potevo farlo e quindi sono andato via. Questa volta mi hanno chiamato e di corsa sono arrivato qui. Mentre un passante, uno che passava di lì, dice, sono venuto a vedere se c'è una dose per me. Mi dicono che stanno avanzando le fiale, però la risposta è stata no, non si può fare perché questa è la disposizione. Io ho la prenotazione per maggio, posso farlo oggi, niente da fare, non si può fare. Vaccine a Glex Risto, anche il Corriere Adriatico, pochi prenotati, arrivano i riservisti, mentre Letizia Francesconi ci informa attraverso il Corriere che l'Asur di Pesaro, l'area Vasta 1, dunque ha fatto un sopralluogo al teatro, ha visitato in questi giorni lo stabile della compagnia Piccola Ribalta, al momento inutilizzato per la chiusura dei teatri. Siamo in via dell'Acquedotto a Pesaro, perché pare che si voglia aprire un hub, cioè un centro vaccinale più piccolo, minore, che magari possa servire per altre situazioni. Mentre l'appello dei volontari di protezione civile che dicono noi andiamo dagli anziani, andiamo dalle persone fragili, però dateci la possibilità di vaccinarci. E la richiesta arriva da Massimo Ciabocchi, che è il presidente provinciale dell'Auser. Ci sono infatti associazioni di volontariato che sono impegnate nella gestione dei servizi vaccinali e non, dove i volontari non sono stati ancora vaccinati. Invece sono pronte per ripartire dopo una decina di giorni di stop. Le somministrazioni e volontari di protezione civile sotto i 60 anni. Sempre per quanto riguarda la protezione civile, scrive il giornale, sarebbero circa un centinaio gli operatori di protezione civile che si sono ritrovati senza la possibilità di ricevere la prima dose di AstraZeneca all'indomani della modifica dei requisiti di somministrazione per soggetti al di sotto dei 60 anni. Con AstraZeneca sono cambiati il famoso bugiardino, hanno cambiato un po' di cose, quindi sono rimasti fuori. Ma c'è un'altra pagina che riguarda il fronte sanitario, anche se parliamo non di Covid, ma di struttura in quanto tale. Parliamo dell'ospedale Pesaro Fano, o Fano Pesaro, l'ospedale unico. Perché adesso pare che questo nuovo ospedale qualcuno voglia spostarlo in un'altra zona, non a muraglia, ma farlo a case bruciate. Sarebbe come tornare indietro, però qualcuno dice, di 10 anni. Questa perlomeno è la posizione dell'amministrazione pesarese espressa anche al governatore Acquaroli. Biancani dice che è un gioco dell'oca politico. Dopo il nosocomio unico salterebbe anche l'azienda Marche Nord. Ora, quanto ci sia di vero o verosimile in tutto questo ancora non è da sapere perché. Perché si fa riferimento ad un incontro, ad un dibattito su questo nuovo ospedale che si è tenuto su Facebook poche ore dopo un incontro a massimo livello tra il Presidente della Regione Acquaroli e il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci per discutere appunto di questo nuovo progetto. Non ci sono conferme di questo incontro, anche perché i partecipanti avrebbero condiviso un patto del silenzio. Ma è ormai assodato, scrive il giornale, che la Giunta regionale appunto guidata da Acquaroli voglia azzerare quella che chiama la chimera ideologica degli ospedali unici. Ovvero c'è un desiderio politico che fa puntare ad Acquaroli e soci alla cancellazione definitiva di ogni progetto firmato nella legislatura precedente, cioè quella di Luca Ceriscioli. E il progetto più importante in quella Giunta era l'ospedale unico di Pesaro Fano a Muraglia. E quale migliore occasione per chiudere quella parentesi facendo saltare l'ospedale unico Pesaro Fano trasferendo la sede dell'ospedale nuovo di Pesaro a case bruciate? L'idea è di dividere Pesaro da Fano eliminando l'ospedale unico poi il project financing. Infine l'eliminazione dell'azienda ospedaliera Marche Nord, seppure in presenza di buoni risultati ottenuti sul fronte Covid. Beh, insomma, più che buoni direi ottimi risultati ottenuti durante la pandemia. E sarà dura convincere di chiudere un'azienda che ha fatto davvero miracoli durante il Covid solo per una questione politica. Su questo dobbiamo stare molto attenti. Le cose che funzionano, per favore, lasciamo perdere. Lasciamo stare. Allora, le attività ce la faranno, dice l'assessore Lucarelli, che è l'assessore al commercio del Comune di Fano, siamo sul Corriere Adriatico, ed è ottimista sulla ripartenza degli esercizi in zona gialla dal 26 aprile. Le attività ce la faranno, dice, con più spazi all'aperto. Lucarelli sollecita le istanze per il raddoppio del suolo pubblico occupato e dunque adesso si attende il testo con tutti i particolari delle ultime decisioni del Governo nazionale, ma con le anticipazioni che sono state espresse da Draghi sul ritorno in zona gialla dal 26 aprile, vengono queste anticipazioni giudicate positivamente dalla Giunta fanese. Soddisfazione per l'apprezzamento di Carloni, sinergie tra enti e categorie. Mentre sotto, sulla pagina di Fano del Corriere di oggi, si, l'allora presidente Marino della holding, Aset Holding, quando ancora c'era l'Aset Holding, Marino ricorda l'occasione persa del biodigestore fanese, ma dice anche che da tempo l'azienda pesarese, quindi Marche Multiservizi, era interessata alla fusione con Aset Holding. Invece guardate questa fotografia, l'imbrattamento realizzato la notte scorsa sulla ciclovia adriatica. L'imbrattamento è questa sagoma, un po' come avviene nei film Crime, quando c'è una vittima che si disegna la sua sagoma a terra per indicare il corpo. Ecco, questa è la genialata che hanno voluto fare la notte scorsa. Dove? A Ponte Sasso di Fano. Imbrattata la pista ciclabile, tolleranza zero del sindaco, writer in azione sulla ciclovia a Ponte Sasso, ancora da inaugurare, se ridice lo denunceremo. Saranno acquisite le immagini delle telecamere, consensi sui social, la Lega critica. Mentre a Fossombrone, guardate questa fotografia, è una fotografia che ovviamente tutti conosciamo, questi cassonetti di colore verde che sono utilizzati per gli sfalci dell'erba, le potature e quant'altro. Ebbene, che cosa è successo? È successo che un signore ha potato gli olivi, poi ordinatamente e in maniera molto diligente li ha messi dentro il cassonetto, qualcuno ha visto che dentro c'erano dei tronchetti di legno di olivo che potevano essere comodi per la stufa il prossimo inverno e che cosa ha fatto? Li ha ritirati fuori, però al posto di rimettere dentro dopo il lavoro fatto, li ha lasciati lì. Ha detto, tanto, ormai io la legna l'ho presa, lasciamo tutto così. E questo fatto di inciviltà è finito sul giornale. Turismo, il Nord ha dimenticato, niente svista nell'elenco è successo a Fossombrone, l'ho detto, sì. Turismo, il Nord ha dimenticato, niente svista nell'elenco aggiornato il San Bartolo non c'è, siglato il patto della riviera Biancani, prima per inserire nel piano triennale regionale Pesaro, Gradare e Gabice e dunque se sta occupando Biancani, il consigliere regionale del Partito Democratico in qualche modo cerca di non mollare l'osso nei confronti di questo piano triennale del turismo e della regione che non ha inserito nell'elenco dei grandi attrattori turistici le località gravitanti attorno al parco del San Bartolo. Una dimenticanza diciamo noi? Punto di domanda. Intanto la spiaggia di Fiorenzuola è plastic free. La bellissima spiaggia di Fiorenzuola di Focara è plastic free grazie anche al gruppo di volontari che, guardate quanti sacchi di immondizia hanno raccolto ieri mattina hanno fatto sì che insomma questi 50 chili tra reti per la miticoltura migliaia di cotton fioc quelli che noi gettiamo nel water e non nell'immondizia al mattino tac poi vanno a finire tutti là. Allora siamo a pagina 9 del Corriere Adriatico il porta a porta a costi proibitivi dunque sarà abbandonato per la raccolta e la secca replica di Marche Multiservizi e i movimenti nei nostri cassonetti non c'è uno scarto del 40% che cosa è successo? È successo che nei giorni scorsi qualcuno diceva guardate che nell'organico è presente il 40% di scarto ma Marche Multiservizi risponde seccamente non corrisponde al vero che nel territorio gestito da noi ci siano appunto ci sia nell'organico il 40% che viene scartato mentre la raccolta porta a porta è un sistema che sta per essere abbandonato questo è in estrema sintesi la replica di fronte alle critiche alla raccolta differenziata dei rifiuti divulgata tre giorni fa dai movimenti Rete Pesaro Città Sostenibile poi altri eccetera eccetera dunque questa è la notizia che potrete approfondire chiaramente sul giornale di oggi intanto da Lunano dove c'è stato il lutto cittadino per la morte di uno storico sindaco che è Tonino Salvatori l'idea adesso è quella di appunto nominare dare il nome intitolare il tunnel della Pedemontana appunto a questo sindaco Tonino Salvatori che ci ha appena lasciati intitoliamo a lui la galleria che collega Sant'Angelo in vado a Lunano credo sia giusto riconoscere il suo impegno per le aree interne e migliorare i collegamenti stradali della nostra provincia lo dice lancia quest'idea Renzo Rovinelli che dello storico sindaco di Lunano deceduto nei giorni scorsi all'età di 81 anni per le conseguenze del Covid era amico sotto molti profili andiamo ancora avanti sulla nostra segna stampa dalla pagina di Urbino il personale di Urbino è allo stremo intervenga l'assessore Saltamartini appello urgente di Micaela Vitri e di Biancani nel consiglio regionale di domani l'ospedale di Urbino pare essere in serie difficoltà e dunque c'è questo grido d'allarme per la grave carenza di personale dell'ospedale Santa Maria della misericordia di Urbino lanciato da più fonti politiche e sanitarie il personale è già sottorganico allo stremo delle forze perché impegnato anche nell'ospedale Covid di Civitanova Marche molti sono stati trasferiti là molti dei sanitari eccetera eccetera e nella campagna di vaccinazione nei tre punti di Pesaro Urbino e Fano i due consiglieri regionali appunto chiedono all'assessore Saltamartini perché fanno domande affinché dia risposte tempestive sia sul potenziamento dell'organico sia sullo scorrimento delle graduatorie per le nuove assunzioni poi sempre dalla pagina di Urbino del Corriere Adriatico c'è un appello invece questa volta della figlia del titolare della pizzeria Mystic che è stato trasferito a Padova anche lui gravissimo a Urbino la figlia dice pregate per lui il titolare della pizzeria è stato trasferito a Padova dove le sue condizioni sono ancora molto gravi questo commerciante si è malato di covid soffre di un'insufficienza respiratoria che ha reso necessario sottoporsi all'ECMO cioè l'ossigenazione extracorporea a membrana una tecnica molto invasiva che sostituisce di fatto i polmoni nell'ossigenazione del sangue sono due macchinari presenti anche all'ospedale Torrette ma erano già occupati e ora tutta la famiglia Pasini originale di Montecchio e molto nota a Durbino è stata duramente colpita da questo virus non solo Maurizio infatti ma anche i genitori e la sorella sono stati ricoverati il padre di 83 anni purtroppo non ce l'ha fatta ed è ceduta l'altra notte mentre la madre di 76 e la sorella stanno migliorando allora l'appello lo vedete pregate per lui e allora noi diciamo preghiamo per lui e per tutti quelli anche che si trovano ricoverati in ospedale che stanno male e lo facciamo ogni giorno qui dalla cappellina che si trova nella sede di Fanu TV alle 3 in diretta protezione civile 30 volontari si formano per le varie attività il corso ieri hanno preso parte 5 associazioni c'era anche l'assessore regionale Stefano Guzzi siamo a San Costanzo il sindaco Sorcinelli soddisfatto metà delle nuove leve dice è proprio di San Costanzo andiamo adesso invece sul furlo al furlo la gola del furlo scenario straordinario ancora interdetta al traffico per rumori di sassi in movimento dalla parete rocciosa dunque per sicurezza adesso i rocciatori entreranno in azione sulla parete per vedere un po' che cosa sta succedendo come mai ogni tanto si sentono questi sassolini questi sassi che cadono giù è un incarico da 40 mila euro per la consulenza geologica dovranno calarsi per 200 metri e verificarne la sicurezza da Senigallia la rotonda sul set scatta il lifting poi si passerà al resto della renile il comune modifica il programma per sistemare la spiaggia a partire dal porto canale verso sud poi sotto invece non c'è pace per l'albergatore Davide Namias alle Canarie un altro weekend di minacce contro l'imprenditore questa è un'altra scritta minacciosa mentre per quanto riguarda lo sport abbiamo detto visto lo sport il calcio il basket è andato malissimo mentre ci sono due squadre di pallavolo marchigiane una fanese e una maceratese che invece hanno ieri fatto l'expload hanno fatto due risultati straordinari intanto a Fano la vigila raffonda e risorge 3 a 2 risultato finale contro gamma chimica Brugherio ora la bella per andare in semifinale mentre è andata bene per la Med Store eccola qua di macerata Med Store a raffica vola ai quarti di finale la pratica Porto Maggiore è chiusa in 3 set Dennis e Ferri trascinano Macerata dunque risultato Porto Maggiore 0 Macerata Med Store 3 e con questo noi chiudiamo la nostra assegna stampa grazie per averci seguito vi ricordo che questa sera dopo il telegiornale delle 20 e 30 ci sarà primo cittadino e l'ospite sarà il sindaco di Mondolfo Barbieri Nicola Barbieri intervistato come sempre da Simona Zonghetti grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie per averci seguito